Per noi è un terzo appuntamento a Smart Mobility World, quindi due anni fa precisi abbiamo lanciato i nostri servizi di ricarica a questo evento che all'epoca era a Torino, oggi abbiamo la fortuna di coprire la piazza di Milano. Il nostro impegno effettivamente va avanti con continuità, la sostenibilità è sempre più un punto d'attenzione del gruppo Duferco e abbiamo effettivamente la fortuna di vedere realizzati gran parte i nostri progetti, quindi ci troviamo effettivamente già ad aver comprato più di 13 veicoli elettrici, le auto aziendali iniziano a essere sostituite con vetture full elettriche con cui facciamo più di 3500 km al mese testando i nostri servizi di ricarica in tutta Italia. Abbiamo avuto l'aggiudicazione del bando della Valle d'Aosta che permetterà di installare tutte le infrastrutture di ricarica della Valle d'Aosta con i finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Sabato scorso abbiamo inaugurato Avigliana, che è un punto splendido perché è un ingresso in Piemonte, i motori avanti a tutta forza. Al momento riteniamo che il mercato, e ricordiamo che l'80% dei nostri clienti è straniero, norvegese, tedesco, olandese principalmente, e ha una Tesla, quindi mi sento di dire che siano clienti abbastanza evoluti, gradiscono molto il discorso della car di ricarica perché dà affidabilità in tutti i momenti, quindi con la testa di ricarica ci si avvicina una tessera a una colonnina, in questo caso tra l'altro è una delle applicazioni italiane con quattro prese di ricarica per cui si possono ricaricare quattro veicoli contemporaneamente, come quelli di Santa Margherita Rigore che abbiamo già installato, quindi si passa la tessera di ricarica, si inserisce la presa e inizia la sessione di ricarica. Al termine, semplicemente, si ripassa la carta, si disinserisce la presa e si termina la ricarica. Ha in sviluppo ovviamente anche tutta la parte di applicazioni via app e altri pagamenti più evoluti, però essendo il secondo operatore nazionale dobbiamo operare sia su nostre colonnine che su quelle di terzi e quindi preferiamo lasciare i servizi quando sappiamo che funzionano su tutti gli operatori e questo è uno dei punti di miglioramento di cui parleremo tanto oggi nella convention di questo evento.